L'azienda informatica Synerges ha donato due defibrillatori automatici portatili alla questura di Lucca. Le apparecchiature diventeranno parte del materiale d'emergenza in dotazione delle volanti in servizio a Lucca e a Viareggio. La consegna è avvenuta alla presenza del questore, la dottoressa Alessandra Faranda Cordella e del dirigente della squadra volanti, Fabio Scalesi, a cui il responsabile della Synerges, Marco Vannucchi, ha consegnato le apparecchiature. Una richiesta, quella di dotare le volanti di questo prezioso ausilio salvavita, partita dallo stesso questore e che è stata recepita subito dal settore privato. Un circuito, una richiesta da parte di un'istituzione che lavora per la sicurezza, una richiesta raccolta da un privato che finisce poi nell'interesse della comunità. E quindi credo che questa sia una grandissima dimostrazione di sinergia e soprattutto di entusiasmo e di amore per il territorio. Qualche volta ci siamo concentrati su aspetti legati al sociale. In questo caso, quando siamo venuti a sapere tramite Marianne, che è un'amica comune di questa volontà, di questo desiderio da parte della questura, per noi è stato abbastanza naturale e automatico il fatto di proporci e poter acquistare e donare questi defibrillatori. Alla consegna delle apparecchiature era presente anche la dirigente dell'ufficio sanitario della questura di Lucca, Allegra Cammi, che ha sottolineato il fatto che il personale della questura è già in buona parte addestrato all'utilizzo dei defibrillatori e che le esercitazioni vengono svolte proprio con il modello che è stato donato alla questura.